E' pazzesco! Sembra che qualcosa stia emergendo dal terreno! Sì, qualcosa sta decisamente emergendo dal terreno! Perfetto! Perfetto! Continua così! Cazzo! Siediti, non puoi giocare adesso! Lo zio Gikus sta guidando! Lo zio Gikus sta guidando! Lo zio Gikus sta guidando! Restate sul bersaglio! Affermativo! Fuoco al comando! Saremo gli operativi! Sembra dirigersi verso il centro del territorio! Ora è a tiro! Fuoco! Qualcosa ha fatto fuoco e l'ha colpito su un lato! Che cazzo è? Da uno dei motori esce fumo! E' fuori controllo! Va scendendo! Ma di ragazza con fervo di botti! Anzi! Sembra precipitare verso il suono! Ecco! E' sempre più vicino al suono! L'ha colpito! Un impatto potente! Adesso è a botta del fumo! Oddio di quella bocca! Metti dentro questo stronzo! Ci muoviamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Oltalo via! Dentro! Stiamo girando in cerchio per avere una visuale migliore della nave che è completamente distrutta! Aspettiamo che si diradi il fumo! No, no, no. No, no, no. Arrivo previsto ore 16. No, no, no. 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 No, no, no.